Queste nuove politiche dovranno essere accettate non solo dai singoli parlamenti di ogni singolo Stato membro dell'Unione Europea ma anche dal Parlamento Europeo, quindi ancora deve essere detta l'ultima parola. Ed è proprio così, questo video è di luglio e a distanza di quattro mesi ancora la frase può considerarsi valida, non è detta l'ultima parola. Tutte le varie vicissitudini per quanto riguarda la storia del Next Generation EU rappresentano bene le lungaggini dell'Unione Europea nel prendere le decisioni. E non per la sua burocrazia inefficiente, caso ad esempio ascrivibile a quello italiano, ma nella difficoltà nel cercare di racchiudere e creare una sintesi di interessi provenienti da 27 Stati completamente diversi e alcune volte anche con interessi completamente opposti. Questa problematica è una caratteristica storica dell'Unione Europea, abbiamo già visto l'esempio del caso della sedia vuota nel vecchio video in cui parlavamo per l'appunto del Next Generation EU. Questo problema si aggravò nel 2004 e nel 2007, quando l'Unione Europea si espanse ad est, raggruppando anche il cosiddetto Gruppo Visegrad. Riguardo il Gruppo Visegrad ha fatto un bel video a Gio Pizzi che vi consiglio di andare a guardare. Nell'ultimo periodo però l'idea di Stato che hanno in mente questi paesi si sta allontrando sempre di più dagli ideali europei. Ma quali sono questi ideali europei? Ce lo dice il Trattato sull'Unione Europea, nel titolo 1, articolo 2. L'Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze. Questi valori sono comuni agli Stati membri, in una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra donne e uomini. Tutto il contrario quindi rispetto a quello che stanno facendo Ungheria e Polonia, come ad esempio il non rispetto dei diritti delle minoranze etniche, oppure quello sui diritti sessuali delle comunità LGBTQ+. Oppure il vizio di mettere ai margini gli oppositori politici, o riempire i tribunali di giudici fedeli, una politica repressiva dei media. Oppure ancora il vizio di indirizzare fondi pubblici, spesso anche europei, verso i sostenitori del partito a governo della nazione. Tutti ideali e prassi politiche molto vicine all'Unione Sovietica, più che ai paesi occidentali. Queste tematiche non furono affrontate durante il Consiglio Europeo del 17-21 luglio, quando fu concordato il bilancio europeo e il Next Generation EU. Dobbiamo aspettare solo il 30 settembre, quando la Commissione Europea propone un regolamento che riguarda l'accesso alle risorse del Next Generation EU e del bilancio europeo solo per gli stati che rispettano lo stato di diritto. A quel punto la palla è passata al Parlamento Europeo, che nella data del 10 novembre è riuscito a raggiungere un accordo per quanto riguarda un aumento del bilancio europeo di 16 miliardi, soprattutto per aumentare le risorse proprie dell'Unione Europea, riguardo dei programmi comunitari, e soprattutto per rafforzare la clausola del rispetto dello stato di diritto per poter accedere ai fondi non solo del budget europeo, ma anche del Next Generation EU. Il 19 novembre c'è stato un ulteriore consiglio europeo tra gli stati membri che, oltre a discutere altre tematiche, ha discusso per l'appunto anche il budget europeo, il Next Generation EU e la relativa clausola dello stato di diritto. E ovviamente in quel caso Ungheria e Polonia hanno fatto opposizione, esercitando il diritto di veto. Se per il bilancio europeo questo diritto di veto non ha causato particolari problemi, perché per la sua approvazione è necessaria la maggioranza qualificata e quindi è stato formalmente approvato, per il Next Generation EU i problemi ci sono, perché bisogna avere l'unanimità per approvarlo. L'unanimità è necessaria per concedere alla Commissione Europea un nuovo potere, e c'è quello di potersi finanziare all'interno dei mercati per poter appunto sostenere le nuove spese derivanti dal Next Generation EU. E così la trattativa è rimandata al 10 dicembre, data in cui ci sarà un nuovo Consiglio europeo e si spera che un accordo verrà trovato. In teoria i soldi provenienti dal Next Generation EU dovrebbero arrivare tra primavera e estate, e questi rallentamenti in teoria non dovrebbero compromettere l'erogazione dei soldi, però sicuramente è aumentata l'incertezza riguardo questo nuovo strumento. C'è chi dice che prima o poi la Polonia e l'Ungheria cederanno a queste pressioni, visto che le loro economie sono molto dipendenti dai fondi erogati dall'Unione Europea. Dall'altra parte c'è chi ipotizza la possibilità di creare un Next Generation EU al di fuori dell'Unione Europea, escludendo quindi Ungheria e Polonia, e quindi creando un'istituzione terza dall'Unione Europea, un po' come è accaduto con il MES nel 2011. Nel caso si realizzasse questa possibilità e quindi la creazione di un'istituzione completamente al di fuori dell'Unione Europea, e quindi un accordo tra gli Stati, beh, questo sancirebbe sicuramente una sconfitta da parte dell'Unione Europea, incapace di progredire nel suo progetto a causa di due Stati, che evidentemente fin dall'inizio si sono resi contrari a qualsiasi tipo di ideale e progetto comune europeo. Il Trattato di Lisbona nel 2007 in questo senso non è stato assolutamente lungimirante, infatti non include la possibilità di escludere una nazione dall'Unione Europea. Al massimo permette la possibilità di mettere ai margini una nazione per quanto riguarda le votazioni dall'interno del Consiglio Europeo e di non accedere a determinati fondi provenienti dall'Unione Europea. Peccato che questa opzione è prevista all'unanimità, ovviamente escludendo la nazione interessata. Però ovviamente essendo un gruppo di Visigard composto da quattro nazioni, questa clausola non potrebbe mai essere applicata. Per concludere, qualsiasi tipo di progresso per quanto riguarda il progetto europeo è pieno di ostacoli e complicazioni. Come ho accennato all'inizio, questo era vero sia all'inizio del progetto dell'Unione Europea dagli anni 50 in poi, ma si è andato ad acutizzare dal 2004 con l'introduzione dei paesi provenienti dal blocco dell'Est. E ogni volta sembra sempre di guardare una telenovela. Detto ciò, vi saluto e ringrazio come al solito gli abbonati che sostengono, supportano e rendano realizzabile questo progetto di divulgazione economica e ci vediamo alla prossima puntata. Ciao! Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS